Buongiorno a tutti, sono un chirurgo plastico e oggi volevo parlarvi della mastoplastica additiva. La mastoplastica additiva si differenzia in due categorie, si differenzia per le pazienti che sono insoddisfatte del proprio volume mammario e quindi sono pazienti che normalmente sono pazienti giovani sotto i 40 anni e poi pazienti che hanno perso il volume mammario, ad esempio dopo una gravidanza. In tutti i casi è possibile o aumentare le dimensioni della mammella o ripristinare il volume perso. È un intervento in schema proprio additiva, comporta l'inserimento di una protesi mammaria al di sotto della ghiandola o al di sotto del muscolo grande pettorale. Attualmente si può fare non più come una volta in anestesia generale, ma in anestesia locale con sedazione e questo è molto più confortevole per le pazienti. Ma soprattutto rispetto a una volta, adesso si cercano di usare delle protesi più adatte alla paziente, più personalizzate, perché la mia idea è quella che l'intervento di chirurgia estetica meglio riuscito è quello che non si vede che sia stato fatto. Grazie a tutti.